Il momento Italia Viva resta lo stallo sulla regolarizzazione dei migranti e mentre prosegue la trattativa sui permessi di soggiorno di sei mesi, si stanno limando i testi, fanno sapere dal Ministero dell'Agricoltura, ribolle di malcontento la chat di ministri e sottosegretari grillini che chiudono ad ogni ipotesi di condono penale per gli imprenditori che abbiano utilizzato Manodopera e Nero. Sono contrario a qualsiasi proposta possa mai arrivare da chiunque che in qualche modo condoni l'imprenditore, che in realtà non è un imprenditore ma è un criminale, che sfrutta il cittadino straniero, italiano, cittadino regolare o irregolare e lo faccia lavorare nei campi. È il punto più incriminato di un decreto che vale come due manovre di bilancio, su cui c'è un accordo di massima sui capitoli principali, ma restano molti i nodi da sciogliere, come il taglio dell'IRAP. Renziani e 5 Stelle spingono per la cancellazione della rata per il 2020, non del solo saldo e acconto di giugno annunciato da Gualtieri, tant'è che Misiani stamattina corregge il tiro parlando di riflessione in corso. I DEM, più che ad aiuti fiscali, puntano sulle risorse alle imprese, ma non solo. Aiutare famiglie ed imprese con un'attenzione particolare al settore turistico, il più colpito dalla pandemia, dando anche un aiuto concreto alle famiglie per passare le loro vacanze in Italia. Polemiche anche sul reddito di emergenza, che i 5 Stelle vorrebbero sommare a quello di cittadinanza. La forgia, liberi uguali invece, propone di istituire un unico reddito universale. I toni sono quelli di chi non si stanca di ripetere che ripartire è necessario e le regole devono essere certe. Nessuna polemica per Matteo Salvini, ma gli annunci sul nuovo decreto, specie per il settore del turismo, li considera surreali. Aspettiamo per vedere, ma nemmeno troppo, questa la linea, perché la cosa da fare subito è dare un po' di fiato alle imprese, alle partite IVA, una rivoluzione fiscale, insomma, in cui si torna a parlare di flat tax, così durante la trasmissione Patria in onda più tardi su questa rete. Il taglio delle tasse ai lavoratori dipendenti e alle partite IVA, agli imprenditori che fatturano fino a 100.000 euro, o fai adesso un investimento sul futuro, sulle imprese, sugli artigiani, le partite IVA e le famiglie, o non lo fai più nella vita. E d'altra parte anche Berlusconi chiede uno scatto in più per le imprese, perché questo governo insiste, ha fatto veramente poco, quelli c'aron zulli di Forza Italia, è convinta che serva assolutamente un welfare per l'infanzia. Al governo chiediamo l'azzeramento delle tasse per tutto il 2020, chiede l'Udc De Poli. Preoccupazione da parte della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, la ristorazione in ginocchio, avverte, servono finanziamenti. È sufficiente guardarsi intorno per capire che condizioni si trovano le famiglie, le imprese.